Entra nel vivo la preparazione settimanale della San Cataldese che domenica alle ore 15 sarà impegnata nella prima attesa giornata del campionato di Serie D, Girone I contro il Sant'Agata. Tra i verde a Maranto ci sarà anche il nuovo arrivato, Matteo Brumat, un difensore di categoria superiore che ha scelto di giocare a San Cataldo. Brumat, 27 anni, friulano, nato a Farra di Sonso, vanta anche diverse presenze nella nazionale Under 18. Nel suo curriculum pure Empoli, Arezzo, Siena, Siracusa e Acireale. Per la San Cataldese è un ottimo rinforzo in grado di fare la differenza nel reparto arretrato. A San Cataldo si respira aria di notevole ottimismo, c'è serenità e consapevolezza intorno alla squadra allenata da Matteo Vullo che già al debutto in Coppa Italia ha dimostrato notevole qualità fermando la corazzata Catania e battendola dopo 90 minuti di grande intensità ai calci di rigore. Di scarsa rilevanza la successiva sconfitta con il Paternò dopo una partita affrontata dai verde a Maranto soprattutto come un test per provare soluzioni e schemi. Da domenica con i tre punti in palio non ci sarà più spazio per gli esperimenti. La San Cataldese è chiamata alla conquista della vittoria come ha auspicato nei giorni scorsi dal portiere Dolenti e per portare a termine la prima impresa della stagione avrà necessariamente bisogno del calore dei propri tifosi. Il Sant'Agata avversario da non sottovalutare punta principalmente alla salvezza. Sulla pagina social Sant'Agatese parla il direttore sportivo Ettore Meli. Penso che tutte le squadre giocano sempre per vincere quindi l'obiettivo è partire partita dopo partita cercando di fare più punti possibili. Un avversario vale l'altro, non vediamo l'ora di partire perché ora il campo manca. Ma il mercato penso che chiuda il 16 o il 18 quindi non è chiuso fino all'ultimo momento. Poi in linea di massima la squadra è pronta però come è normale che sia siamo sempre attenti ad ogni situazione che possa nascere.